Sono nato in una bella casa, ma intorno ai dieci anni ho scoperto che i miei genitori avrebbero divorziato e mio padre, ho scoperto che mio padre aveva sviluppato un problema di alco. Mia madre ne aveva abbastanza, lui beveva e poi quando beveva finiva per prendere delle droghe. Non c'erano mai sfuriate in casa mia, ma era un problema e mia madre non voleva che crescessimo in quell'ambiente, ricordo che quando lo iniziano a divorziato non mi ha dato molto fastidio, ma mentre gli anni passavano, non avendo un padre, fu come se questa cosa mi lasciò vuoto, come se vagassi e finì per far parte di una banda, finì per essere un ragazzo di strada e anch'io ebbi un problema con le droghe, bevevo, prendevo la droga, cocaina, estasi e ricordo che un giorno ne avevi proprio abbastanza. Ero in una stanza e vedevo tutti i miei amici che sballavano, tutti che fumavano e sono caduto sul pavimento della mia stanza e ho gridato a Dio, dissi, Dio, non so se sei reale o meno, ma se questa è la vita non voglio vivere un altro giorno. E dissi così a Dio, Dio, se questa è la vita non voglio vivere, ho bisogno che tu sia reale. E una settimana dopo, quando sono andato in chiesa, nello stesso periodo, ci fu un momento dove guardavo semplicemente la riunione e ho avvertito, allo stesso momento, ho avvertito come un velo che si toglieva dal volto, avverti come centinaia e migliaia di pesi che si scrollavano via da me e ho incominciato a pregare. Non sapevo cosa stesse accadendo. E quello che cambiò davvero la mia vita fu il comprendere che Dio è reale. Dio non era una religione, non era qualcuno a cui vai e devi fare un numero per piacergli, è un essere reale che ci parla e qualcuno che si rallegra nella comunione e conversa con noi. E dopo un paio d'anni pregavo per la mia famiglia e ricordo di aver raggiunto un punto in cui era come se dicessi Dio, se mi hai salvato puoi salvare anche la mia famiglia. Ricordo semplicemente che un giorno ne abbia abbastanza, era accaduto qualcosa con mio padre, dissi Dio, non mangerò, non toccherò cibo e acqua finché non fai qualcosa per la vita di mio padre. Perciò ricordo di aver pregato e ho passato un giorno e mezzo, pregavo, adoravo, facevo le mie cose, ero concentrato e ero concentrato sul fatto che non avrei mangiato e dopo un giorno e mezzo ho sentito lo Spirito Santo dirmi adesso puoi mangiare. E seppi così che la mia preghiera era stata esaudita. E dopo un paio d'ore ricevetti una chiamata da mio padre in ospedale. I medici non sapevano cosa avesse ma aveva dei forti dolori allo stomaco. Così arriviamo lì e come previsto una cosa tira l'altra, i dottori si preoccupavano, c'erano medici che camminavano con dei fogli in mano dicendo che se era ciò che pensavano che fosse mio padre non ce l'avrebbe fatta nelle successive 24 ore. Mio padre perdeva, riacquistava conoscenza, aveva paura, ma era strano perché ricordo di essere lì ed avvertivo lo Spirito Santo per tutto quel tempo. Sapevo di essere nel mezzo della preghiera. Mentre il mondo intorno a me era nel caos e tutti si preoccupavano, nessuno sapeva cosa fare. Io sapevo che quello che stava accadendo intorno a me era il risultato di quello che avevo pregato e di quello che avevo chiesto a Dio di fare. E come previsto, un paio di giorni dopo mio padre lascia l'ospedale, venne dimesso e scoprì che quando si trovava lì su quel letto aveva fatto un patto con Dio che se fosse uscito da lì avrebbe smesso di prendere droghe e di fumare e di bere. E adesso sono due anni e mezzo che non beve, non prende cocaina, non fuma e dopo quel momento mio padre ha iniziato a frequentare la chiesa, ha ricevuto la salvezza, mi chiama tutte le volte per pregare insieme a me al telefono. Lui vuole sempre pregare. Ogni volta che lo vedo dice figlio prega con me, così preghiamo insieme. Se Dio non mi avesse rivelato mai il cuore di mio padre in quell'intimità non avrei mai conosciuto quali sarebbero stati i piani di Dio per la mia famiglia. Ma perché ha fatto questo adesso so come pregare, come cercare, come lottare per la famiglia e so come ascoltare la voce di Dio per le persone della mia famiglia. Per questo adesso loro sono salvati, hanno incontrato Dio e la mia famiglia adesso è diventata un luogo in cui guidiamo le persone alle cose di Dio.